Cari italiane, cari italiani, mi dispiace disturbarvi in questo giorno di meritate vacanze dopo un anno di lavoro ma dobbiamo fare una breve analisi della crisi politica che stiamo vivendo in questi giorni. Ho già avuto modo di scrivere un breve articolo che poi vi inserisco il link se avrete il piacere di leggerlo. Voglio analizzare questa crisi prima da un punto di vista dei fattori esterni e poi con ciò che è accaduto internamente in Italia. Analizziamo un po' come è stata costituita questa Europa, come si è fatta nascere, è nata sotto il sistema colonialistico interno. Ne ho già avuto modo di scrivere tante volte nei miei libri e nei miei articoli. Il sistema colonialistico prevede cosa? Come è avvenuto nell'Unione d'Italia, nel periodo dell'Unione d'Italia, i Savoia, finanziati dai Rothschild e dalle banche inglese, hanno conquistato letteralmente il sud Italia con una guerra fraticida. Quindi in quel caso il sud Italia è diventato colonia di un nord Italia. Fino ad arrivare oggi che è stata costituita questa Europa, non l'Europa dei popoli, ma appunto con un sistema colonialistico dove ha visto l'asse franco-tedesco fare le veci dei Savoia e ha realizzato un sud Europa, colonia di un nord Europa, con una vera e propria guerra di conquista, in questo caso non militare ma economico-monetaria. Quindi abbiamo avuto, anche per far accadere questo, come c'è stato nel periodo delle Due Sicilie, i traditori del Regno delle Due Sicilie, gli alti generali che si sono venduti alle alte massonerie, così oggi abbiamo i nostri traditori della patria. Mario Monti, come cito sempre quello che ha detto all'FNN, stiamo distruggendo la domanda interna attraverso il consolidamento fiscale, quindi stiamo distruggendo tutta la piccola e media impresa, le aziende, l'artigianato e tutto ciò che abbiamo attraverso la tassazione. Ecco che cosa sta accadendo. Sta accadendo che abbiamo svenduto tutti gli nostri asset strategici dell'Italia, anche il nostro patrimonio immobiliare si è letteralmente dimezzato, cosa che noi non riusciamo più ad acquistare magari le case, abbiamo svenduto e magari vengono i francesi e i tedeschi a comprarsi le nostre bellissime abitazioni, magari che si affacciano sul mare. Per capire un po' i centri di potere che oggi sono andati all'asse franco-tedesco, quali sono? La Christine Lagarde, che viene dal Fondo Monetario Internazionale, colei che ha gestito in una maniera pessima la crisi greca, che faceva arrivare i soldi alle banche greche, non agli greci, con un giro di denaro tornavano indietro alle banche tedesche. Oggi questa crisi greca sta causando in più 700 morti all'anno di bambini. I mass media non ne parlano. Christine Lagarde ora gestirà la Banca Centrale Europea. Massimo centro di potere monetario di tutta Europa. Banca Centrale Europea che può scrivere letterine e inviarcele e dire cosa possiamo fare o non fare. Altro centro di potere molto forte che comanda più del Parlamento Europeo, la Commissione Europea. A chi è andata? Alla Ursula von der Leyen, braccio destro della Merkel. La più antisovranista d'Europa, la più europeista d'Europa. E all'Italietta è andato quel Sassuoli del PD, presidente del Parlamento Europeo, che notoriamente sappiamo che non conta niente. Quindi questo potere sovranazionale, usurocratico e tecnocratico europeo, continuerà a gestire le sue politiche neoliberiste e di dominio di tutti i paesi del Sud Europa, in particolare dell'Italia. Ora, con questo scenario, cosa potevamo aspettarci dal governo Lega 5 Stelle, dal governo giallo-verde? Quando i 5 Stelle in Europa hanno votato alla Commissione Europea la Ursula von der Leyen insieme, con i loro pochi voti, a Forza Italia e al PD. In antitesi al voto che la Lega ha fatto in Europa. Già c'era uno scontro, lì si è visto. E questo scontro si manifesta anche a livello nazionale. Prima di passare però alla crisi e alle influenze interne, voglio parlarvi anche di uno scenario un po' più globalista, del nuovo ordine mondiale o dell'imperialismo, come si suol dire, dell'imperialismo americano e oggi dell'imperialismo, se vogliamo, cinese, del gigante cinese che vede come alleato anche la Russia. La via della seta con gli accordi che hanno fatto i 5 Stelle con la Cina, ma secondo voi poteva andare bene a Trump e agli Stati Uniti d'America quando hanno bloccato negli Stati Uniti d'America l'influenza del colosso delle telecomunicazioni Huawei per gestire le telecomunicazioni degli Stati Uniti? Lo bloccano lì e poi lo fanno lavorare e intervenire all'interno di una sua colonia che è l'Italia per operare sulle telecomunicazioni. Cioè il settore delle telecomunicazioni nella guerra è importantissimo e quindi è normale che questa cosa non poteva andare bene anche a Trump e quindi qualche influenza sarà arrivata anche da lì. Cosa avrebbero potuto fare questo governo giallo-verde con tutti i diktat che ci stanno? Non si può stampare moneta perché non abbiamo la sua unità monetaria, non possiamo fare lo sforamento di bilancio perché è stato messo in costituzione e non è voluto dalla dittatura europea. Non possiamo fare nulla. Cosa ci rimane da fare? Aumento delle tasse e taglio della spesa pubblica. Quindi ospedali, scuole e tutto ciò che sappiamo. E allora a quel punto Salvini evidentemente ha voluto staccare la spina. Perché? Perché fare una manovra di questo genere l'avrebbe distrutto totalmente. Ma come distruggerà anche in seguito se faranno un governo giallo-fucsia tra 5 Stelle, PD, più Europa e l'EU. Una cosa drammatica perché o andiamo a elezioni oppure è inutile che anche i 5 Stelle hanno parlato per tanti anni nessuno inciuci di palazzo, nessuno inciuci di palazzo. E oggi per mantenere le poltrone che cosa fanno? Fanno un governo per amplificare quel discorso neoliberista che è andato avanti in tutti questi anni. Turbo capitalistico, progressista, dove vedremo il continuo sfasciare delle politiche alle famiglie, dove ci sarà poi la famiglia fucsia con la cultura gender, vediamo Bibiano, che cosa sta accadendo che sono la punta dell'iceberg, vediamo, apriamo i porti dove ci sarà quell'ulteriore invasione voluta dai poteri forti dove anche gli stessi immigrati sono succubi di questa struttura imperialistica e di dominio di tutti i popoli per anestetizzare le culture degli uomini, per tagliare le loro radici storico-culturali quindi un'immigrazione voluta analizzata in tutti i modi già in tutti gli scritti che abbiamo fatto e in tutti i video. Che cosa ci rimane da fare? Se non si va a votazione non ci rimarranno che le piazze. Dobbiamo mobilipertarci. Vi accenno già due grosse manifestazioni che sono state organizzate. La prima ci sarà l'8 settembre. Davanti all'ambasciata greca il caro amico giornalista Francesco Amodeo ha organizzato un flash mob per portare 700 gigli bianchi in onore di tutti quei bambini che stanno morendo in più all'anno a causa della crisi. Dall'altra parte in Grecia, nello stesso momento in concomitanza degli attivisti greci manifesteranno per tutti quegli imprenditori italiani che si stanno suicidando e che non un solo TG sta dicendo. Ok? E' in forma. Tutti quegli imprenditori che oggi sono veramente degli eroi riusciranno a mantenere in Italia con la chemiotassazione che abbiamo. L'altro evento che si sta pianificando e che sta già a buon punto è il 12 ottobre a Roma dove la cultura di destra e la cultura di sinistra dovrà andare oltre gli steccati ideologici perché dobbiamo andare oltre e dobbiamo unire il nord e il sud Italia tutti uniti contro questi signori traditori della patria. Dobbiamo andare oltre le ideologie che hanno creato anche per dividerci quindi unire uomini e donne uomini di destra e uomini di sinistra perché il divide ed impera è finanziato sempre dall'elite. Comprendiamo questo discorso mi raccomando cari italiani e cari italiane dobbiamo muoverci uniti solo uniti ce la potremmo fare ripartiamo dalla nostra storia e dalle nostre radici storico-culturali che affondano sulla filosofia greca sul diritto romano e sui 2000 anni di valori cristiani. E colgo l'occasione per salutare il caro Peppe Alozzi gestore della pagina Facebook La Bestia Nera della Politica Un abbraccio a tutti, ciao!